Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Si Vota! Per chi non lo sapesse, questa è una rubrica dove scegliete voi quale delle due action figure io devo recensire per prima. Lo scegliete attraverso i commenti sotto il video. Allora, il primo Si Vota direi che è stato un successo, io mi sono divertito a leggere i vostri commenti e voi credo vi siate divertiti a scegliere quale delle due fosse la vincitrice. In questa seconda puntata abbiamo due Big dei loro brand, ovvero il Big Marvel Spider-Man e il Big DC Comics Batman. Queste figure hanno in comune non solo di rappresentare due Big ma anche di essere di produzione giapponese e di essere quindi iperarticolate. Questo Batman lo avete già visto nel video Figure Fantasy. Allora, vi ricordo brevemente la modalità del voto, dovete lasciare un commento qui sotto con la figure che volete che vinca. Per farlo avete tre giorni, ovvero quello che rimane di oggi, sabato 21, poi domenica 22 e tutto lunedì 23 fino a mezzanotte. Quindi ho ampliato un po' il tempo per il voto. Spero partecipiate in tanti come l'altra volta. Vi ricordo che le figure non si giocano solo la recensione ma si giocano la gloria e l'onore. Quindi che vinca il migliore, scegliete bene, ci vediamo alla prossima e collezionate sempre! Ciao!